Perchè gli italiani dovrebbero seguirvi in questa avventura? Gli italiani hanno perso oramente la fiducia nella politica, nell'economia e noi da sempre. Basta promettere l'impossibile e venderlo come garantito. Per esempio, tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mangetta e loro ti votano. Ci dici più pilo per tutto, tu fotte e loro usano la mina e ti votano. Vedete, io amo gli italiani, sono un greggio che segue il cane e io abbaio benissimo. Comunque, bau bau. Insomma, siamo la minchiata giusta al momento giusto. Amen.